Eh sì, non poteva mancare il video su questa bellissima vittoria della nostra Atalanta dopo tutte le polemiche, dopo tutto quello che è successo Muriel ci ha portato a vincere la terza vittoria in trasferta su tre trasferti di Champions League e andiamo ad approdare agli ottavi di finale insieme alle altre italiane Secondi del girone, ma non per questo, inferiore ad un Liverpool che è andato a pareggiare addirittura in Danimarca Vediamo la nostra Atalanta che ha veramente fatto una bellissima partita non ha fatto delle grandi occasioni ma comunque ha dominato in lungo e in largo nel campo Pessina fantastico, Gollini che ha salvato un gol praticamente fatto e tutti devono meritare dall'otto al nove, dal difensore all'attaccante Zapata che comunque sta recuperando, un po' di azioni le ha fatte un po' stanco nel secondo tempo ma comunque ha fatto il suo ruolo Una grandissima Atalanta, adesso concentriamoci sul campionato iniziamo a fare punti anche al campionato È veramente una squadra che gioca bene, che diverte e comunque si merita di arrivare sia al Champions League che al campionato Una grande Atalanta, un grande club, un grande allenatore e dei grandi giocatori Saluti a tutti, Forza Atalanta!